Ciao e bentrovati di nuovo su Macraris. In questo video Power Automate vediamo come costruire il nostro primo flusso di approvazione che si basa su un elenco configurato in SharePoint. Andremo a costruire questo flusso automatizzato in Power Automate utilizzando il trigger quando viene creato un elemento nell'elenco di SharePoint che abbiamo configurato. In questa prima parte della creazione di un flusso di approvazione semplice con Power Automate andiamo prima a creare l'elenco che alimenterà le richieste degli utenti in SharePoint. Sono in office.com, clicco su SharePoint e accedo a uno dei siti che ho creato nel mio SharePoint. Talk ad esempio e all'interno di questo sito vado in corrispondenza di nuovo, elenco. Il nome dell'elenco, flow approvazione con i ferie. Qui posso inserire una descrizione, visualizza nella struttura del sito e clicco Crea. Ora vado ad aggiungere le colonne. Le colonne che aggiungeremo sono titolo approvazione, data inizio, data fine, note, i commenti del manager e lo stato di approvazione. Li vado a creare uno alla volta. Qui possiamo lasciare questo titolo. Andiamo qui in corrispondenza di aggiungi colonna e qui abbiamo riga singola di testo e creiamo titolo approvazione. Possiamo inserire una descrizione, salva. Vado a creare un'altra colonna e qui abbiamo il tipo di colonna è data e ora. Qui inserisco data inizio, descrizione. Qui scelgo di non includere l'ora e qui ok. Salva. Allo stesso modo andiamo a creare sempre date e ora. Data fine e qui salviamo. Perfetto. Inseriamo le note. Nel caso in cui l'utente vuole inserire delle note, qui possiamo avere più righe di testo. Note. Ok. Inseriamo approvazione e qui è sì o no. Approvazione o approvato e qui predefinito è no. Salva. E poi abbiamo commenti del manager che ha approvato. Andiamo a più righe di testo. Manager commenti. Ok. E qui salva. L'altra cosa che dobbiamo fare qui prima di andare avanti è di apportare qualche configurazione. Qui notiamo che abbiamo modifica rapida. Vuol dire che l'utente può accedere qui e modificare in modo veloce tutte le colonne. Ma questo vogliamo inibire la possibilità all'utente di poterlo fare perché non vogliamo che questa colonna approvato sia modificata dall'utente. Intanto la posso spostare cliccando qui e posizionando nella posizione voluta. E ce l'abbiamo qui approvato. Dobbiamo fare in modo di far scomparire questo. Andiamo in impostazioni e su impostazioni elenco. E qui impostazioni avanzate. In impostazioni avanzate andiamo in corrispondenza di modifica rapida delle proprietà e mettiamo no. Approfitto anche per mettere no qui. E andiamo a fare ok. ritorniamo al nostro elenco e vado a cliccare qui ed è scomparso. Ora per rendere difficile all'utente modificare questa colonna dobbiamo andare in Power Apps per personalizzare il modulo perché se adesso andiamo qui e facciamo nuovo avremo qui la possibilità di poter modificare tutti i campi. Andiamo in corrispondenza. Faccio qui annulla. Qui devo immettere un valore visto che è obbligatorio per cui qui facciamo annulla. Andiamo in corrispondenza di Power Apps e personalizza i moduli. Clicchiamo su questo. Questo ci aprirà Power Apps e in Power Apps potremo personalizzare il modulo. Ok. Skip. Una volta che siamo in Power Apps possiamo andare a togliere le colonne che non ci servono. Vado a togliere allegati e qui faccio remove. Vado a togliere approvato qui e faccio remove. E qui abbiamo solo le colonne che ci servono. Titolo approvazione non serve all'utente. Così posso andare a toglierlo. Remove. E abbiamo solo le colonne che servono all'utente. Anche manager commenti non serve all'utente. Abbiamo il titolo, data inizio, data fine e note. Una volta che sono soddisfatto con la personalizzazione vado in file e vado a salvare. Salvo. Pubblico su SharePoint così che possa prendere le modifiche. Ritorno al mio SharePoint cliccando qui. Ora se vado a fare nuovo mi aprirà il nuovo modulo come personalizzato in Power Apps e vedrò che ho solo le colonne che mi servono. Dopo questa fase preliminare possiamo andare in Power Automate e fare in modo che quando un utente crea un elemento, una richiesta di ferie, che quello faccia scattare la richiesta di approvazione nella relativo manager. Nella prima parte abbiamo configurato il nostro elenco in SharePoint. In questa seconda parte andiamo in Power Automate per creare il nostro flusso di approvazione. È un flusso automatizzato. Clicchiamo su flusso automatizzato. Diamo il nome di flow ferie e scegliamo come trigger quando viene creato un elemento in SharePoint. Crea. In questa azione dobbiamo inserire l'indirizzo del sito. Dobbiamo selezionare il nostro sito su SharePoint. Il mio è questo Talk. Se non ti viene proposto puoi inserire immettendo qui l'indirizzo del tuo sito di SharePoint. Clicco su questo e vado in nome lista a selezionare la lista flow approvazioni ferie, l'elenco che abbiamo creato in precedenza. Il passaggio successivo è di recuperare il profilo dell'utente e del suo manager. Andiamo su nuovo passaggio e qui inseriamo Office. Utenti di Office 365 e andiamo su recupera profilo personale dell'utente. Recupera profilo personale. Questo e in questo recupera profilo personale andiamo in mostra le opzioni avanzate e qui elenco dei campi da selezionare. Noi inseriamo qui semplicemente mail. Andiamo di nuovo a nuovo passaggio. Office di nuovo. Utenti di Office 365. Inseriamo nella barra di ricerca responsabile e qui abbiamo recupera responsabile e per recuperarli responsabili in questo riquadro upn dobbiamo inserire l'id o l'indirizzo di posta elettronica. Inseriamo posta. Perfetto. Ora possiamo passare al flusso di approvazione. Nuovo passaggio. e andiamo qui e inseriamo approvazioni. Clicchiamo su approvazioni e scegliamo avvia e attendi un'approvazione. Qui selezioniamo il tipo di approvazione. Selezioniamo questo semplice approva rifiuta. primo a rispondere e in titolo inseriamo richiesta ferie per e qui andiamo ad inserire la persona che ha inserito e qui cerco autore. In SharePoint ci prenderà autore display name. Assegnato a qui dobbiamo inserire il nome della persona che deve approvare e qui insegniamo il nome dell'approvatore. Qui inseriamo assegnato a contenuto dinamico e qui abbiamo in recupera responsabile. deve essere questa l'azione. Andiamo a recuperare posta. I dettagli possiamo inserire qui richiesta di ferie da autore. inseriamo qui autore, autore display name e qui andiamo a capo. Vuole andare in ferie dal contenuto dinamico qui inseriamo data e qui abbiamo data inizio, a e data fine. perfetto e qui possiamo andare a capo. Qui abbiamo l'opportunità di inserire collegamento all'elemento e qui per inserirlo dobbiamo andare semplicemente qui collegamento. Cerchiamo collegamento e per le azioni di SharePoint abbiamo qui collegamento a elemento. Ma questo te lo risparmio. Una volta che abbiamo creato questo dobbiamo vedere se l'approvatore ha approvato oppure ha rifiutato. Per fare quello dobbiamo inserire una nuova condizione e qui come azione passaggio inseriamo controllo e qui condizione. Andiamo in corrispondenza di scegliere un valore e qui in contenuto dinamico di avvia e attendi approvazione. Dobbiamo cercare risposte, risposte, risposta del responsabile approvazione. Clicchiamo su questo e automaticamente ci apre un'altra azione applica a ogni e inserisce qui risposte. Andiamo in condizione. Deve essere uguale, questa risposta dell'approvatore deve essere uguale qui a approve. Ok, anche se hai configurato la tua interfaccia in italiano questo deve essere in inglese. E se così è, se è approvato, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiornare l'elenco di SharePoint e inviare una mail all'utente. Andiamo qui, aggiungi azione, SharePoint, cerchiamo aggiorna, aggiorna elemento, clicchiamo su questo. Andiamo a selezionare l'indirizzo del sito di SharePoint e seleziono questo. Il nome dell'elenco, il mio è questo e dobbiamo qui inserire l'id dell'elemento, l'id dell'elemento in corrispondenza di SharePoint. Scegliamo id, il titolo, andiamo qui a mettere titolo e recuperiamo il titolo che era già stato inserito in SharePoint. Approvato a questo punto diventa sì e il titolo dell'approvazione, andiamo a mettere il commento dell'approvatore e inseriamo qui commenti. Abbiamo qui risposte commenti, lo mettiamo qui, data inizio, anzi questo risposte commenti dovrebbe andare in manager commenti. Questo è un piccolo errore, commenti e lo mettiamo in manager commenti e titolo approvazione, andiamo a prendere il titolo dell'approvazione. Il titolo dell'approvazione lo mettiamo qui, data inizio, andiamo qui a cercare data e qui abbiamo data inizio e qui data fine. Nelle note andiamo ad inserire le note che c'erano già prima, note e qui abbiamo aggiornato il nostro elenco in SharePoint. Una volta che abbiamo aggiornato questo elemento vogliamo mandare una mail all'utente, nuova azione, Outlook, Office 365, cerchiamo invia e invia messaggio di posta elettronica versione 2, questa. Qui possiamo inviare a e sappiamo che dobbiamo inviare alla persona che ha inserito l'elemento contenuto dinamico e qui autore e mail. Inseriamo questo, oggetto, ferie, le due ferie approvate da, e qui possiamo inserire il nome del responsabile, andiamo qui a mettere nome visualizzato in corrispondenza di recupera responsabile, nome visualizzato, e qui inseriamo semplicemente le due ferie sono state approvate. E qui sotto possiamo inserire il commento che ha messo il responsabile durante l'approvazione. Direi che siamo a posto, possiamo salvare questo e andare in SharePoint e fare un test di questo flusso che abbiamo appena creato. Vado in elenco SharePoint, nuovo, e qui inserisco il titolo vacanza, e la data d'inizio inserisco ad esempio 3, ok, e la data fine inserisco ad esempio 7, ok. E qui note, sono in festa, e qui salva, ok, è salvato. Andiamo a vedere il nostro flusso, torno indietro, e qui vado, tutte le esecuzioni devo aggiornare, modifica il flusso, non vedo nessuna esecuzione, andiamo qui, ok, abbiamo creato questo, salvato, è stato salvato, verifichiamo, è stato salvato, ok, ok, ok. Bastava aspettare un momento, qui abbiamo il flusso, vediamo che il flusso è stato avviato, e se clicchiamo qui in corrispondenza del nostro flusso, vedremo che è fermo in corrispondenza di quest'azione, perché sta aspettando l'approvazione. Il mio responsabile ha fatto in fretta ad approvare la mia richiesta di ferie, e come hai potuto vedere, il flusso si è completato con successo. Andiamo nel nostro elenco di SharePoint per vedere nel frattempo se abbiamo l'aggiornamento. Puoi vedere qui abbiamo il titolo, approvato, e tutto è andato a buon fine. Un'altra cosa che possiamo aggiungere per completare questa lezione è che in corrispondenza del sì possiamo aggiungere una formatazione condizionale in SharePoint. Dobbiamo semplicemente andare qui, cliccare su approvato, impostazione colonna, formata questa colonna, e qui scegliamo riga intera, scegliamo formatazione condizionale, mostra tutti i valori, scegli una colonna, approvato, scegli il confronto, è uguale, e qui il valore è sì. Andiamo a scegliere qui un colore di preferenza, ok, e poi facciamo salva. In questo modo possiamo vedere molto velocemente quali richieste sono state approvate. Ti ringrazio per la tua attenzione. Se questo video ti è piaciuto, un pollice in su per sostenere questo canale. E se vorrai ricevere contenuti similari, registrati al canale Macraris. Nelle prossime visualizzazioni, nei prossimi video, vedremo come costruire altri tipi di flussi di approvazione un po' più sofisticati. Grazie e a presto. Grazie. Grazie.